ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo nuovo video di Super S4 allora sono qui per parlarvi di come gestirò questo canale i programmi di ogni giorno quindi ho programmato i giochi in cui farò in ogni giorno quindi ve li dico subito allora il lunedì farò Minecraft farò la Jetscraft porterò poi martedì farò la Creativecraft questa settimana non c'è la Creativecraft perché devo sistemare alcune cose con la Creativecraft quindi poi vi dirò se è martedì o viene bollita comunque martedì forse lo porterà la Creativecraft mercoledì porterò un robot giovedì ancora non si sa e venerdì porterò cosa avevo fatto un'altra serie o no? non mi ricordo aspetta o faccio la Jetscraft la Jetscraft o o semmai parto un nuovo gioco in cui fare una serie di nuovo gioco non so anzi semmai porto pc information venerdì eh eh porterò pc information lo sapete no? su computer quindi ragazzi commentate iscrivetevi lasciate un mi piace e ciao ragazzi ci vediamo alla prossima ciao